mobilità sostenibile e sguardo al futuro la campagna di sensibilizzazione per un uso più smart dei mezzi pubblici parte dagli abbonamenti a costi accessibili per tutti i cittadini i factotum del boss emergono i particolari dell'inchiesta che ha portato l'arresto dei fratelli antonino e vincenzo luppino figli dell'autista di matteo messina denaro addio alle buche delle lettere anche a trapani le cassette rosse saranno ridimensionate come sta avvenendo in tutta italia buonasera ben ritrovati a questa nostra edizione serale del nostro telegiornale un passo avanti verso il futuro attraverso una nuova concezione della mobilità sostenibile atm trapani lancia una nuova campagna abbonamenti e si pone come partner principale della città per sensibilizzare i futuri cittadini innovazione in atm significa anche una nuova campagna abbonamenti strategie di comunicazione questo grazie anche al reparto marketing guidato da lagna si abbiamo deciso di lanciare questa campagna abbonamenti anche se limitata nel numero perché vogliamo cercare di incentivare le persone all'utilizzo del mezzo d'accordo con ovviamente con il socio unico abbiamo deciso di fare questi 2.000 abbonamenti a un costo di 70 euro di 70 euro quindi chi andrà a fare questo abbonamento che partirà dal 14 di febbraio e finirà il 31 di dicembre avrà un costo di meno di 7 euro penso che per le famiglie sia un risparmio poco fa sentivo dire anche per una questione di cassa non è tanto una questione di cassa abbiamo deciso di aiutare un pochettino le famiglie potranno risparmiare sulla benzina ci sarà più sicurezza per le strade perché ovviamente chi si abbonerà sicuramente sarà una persona in meno che utilizzerà un mezzo di trasporto quale la macchina lo scooter e quant'altro in più servirà anche per far stressare meno le persone che non non si dovranno più stressare per trovare un posto libero per paccheggiare la macchina e adesso passiamo alla cronaca i figli di lupino erano i factotum del boss emergono i particolari dell'operazione messa a segno questa mattina dai carabinieri del rosso e la polizia e servizio di pamela giacomarro guarda spalle custodi e all'occorrenza anche meccanici i fratelli antonino e vincenzo lupino erano i factotum del boss matteo messina denaro assieme al padre erano diventati fedelissimi dell'attitante persone di fiducia alle quali il capo mafia castelvetranese chiedeva di tutto la sistemazione del piatto doccia nel suo nuovo covo la gestione delle operazioni di trasloco la custodia della cucina destinata ad arredare la nuova casa del padrino ma c'è di più il furgone di vincenzo sarebbe stato utilizzato per fare da staffetta al boss che con la sua auto in più occasioni sarebbe passato di fronte alle abitazioni della madre delle sorelle a castelvetrano i telefonini di antonio e vincenzo raccontano che pure loro come il padre avrebbero fatto da scorta al capo mafia accompagnandolo alla clinica la maddalena di palermo dove nel maggio del 2021 l'allora latitante alias andrea bonafede doveva essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico le foto ritrovate nei cellulari dei due dimostrano che entrambi avrebbero custodito l'alfa romio giulietta di messina denaro e si sarebbero anche occupati della manutenzione della vettura antonio e vincenzo secondo la ricostruzione degli investigatori avrebbero anche gestito le delicati fasi del trasporto della loro latitante da un covo all'altro i due si sarebbero occupati dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di via vico san vito ultimo covo della titante e di tutte le fasi del trasloco sarebbero stati loro a contattare il moratore la dita di traslochi gli operai contattati dai fratelli lupino avrebbero confermato tutto uno dei traslocatori che si era scambiato messaggi vocali e foto con il boss lo ha poi riconosciuto dopo la cattura per i tanti servizi svolti l'autista del boss e i figli avrebbero ricevuto in cambio regali e somme di denaro e quanto è emerso nelle note spese astilate dalla loro latitante i tre venivano indicati con il nome in codice mustang la famiglia lupino infatti conosciuta a campo bello con il soprannome di mustusi lavori di ammodernamento all'aeroporto vincenzo florio da domenica 25 febbraio a sabato 16 marzo lo scalo resterà chiuso i dettagli nel servizio da domenica 25 febbraio a sabato 16 marzo lo scalo dell'aeroporto vincenzo florio di trapani birgi resterà chiuso per lavori di manutenzione della pista e tutti i voli sia in arrivo sia in partenza saranno spostati sull'aeroporto di palermo i lavori erano già programmati da tempo e riguardano la sostituzione e l'ammodernamento degli aiuti visivi luminosi le luci della pista infatti saranno aggiornate con sistemi a led di maggiore efficienza ed efficacia questo permetterà una riduzione dei consumi elettrici e quindi un minore impatto ambientale gli interventi che saranno realizzati fanno parte di un programma di ammodernamento infrastrutturale tecnologico dell'aeroporto di birgi che è iniziato circa 4 anni fa al contempo inoltre saranno effettuati anche dei lavori di manutenzione della pista realizzati dalla società di gestione dell'aeroporto come la rimozione dei depositi di gomma e la riqualificazione della segnaletica orizzontale la programmazione di questo periodo di chiusura ha spiegato il presidente salvatore ombra è frutto di un recente coordinamento teso a individuare il periodo meno trafficato dell'anno e quindi a ridurre in assoluto l'impatto e il disagio sulle compagnie aeree e sui passeggeri anche il tempo dei lavori 20 giorni è stato compreso il più possibile nell'ottica di minimizzare il disagio si tratta di lavori necessari che implementeranno ulteriormente la sicurezza del vincenzo florio e ci preparano al meglio all'arrivo di una grande stagione estiva dal prossimo aprile in cui il traffico esploderà nuovamente in attesa dell'ufficialità la giuria sembra confermare Tauria Nova la capitale del libro 2024 non c'è ancora la proclamazione ufficiale da parte del ministero ma tutto sembra andare nella direzione emersa ieri Tauria Nova cittadina della piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria è la capitale del libro 2024 almeno secondo la giuria è stata infatti confermata la scelta fatta dalla giuria del ministero della cultura presieduta da Pierfranco Bruni è composta da incoronata boccia Gerardo Casale Antonella Ferrara e Sara Guelmi che ieri aveva sottolineato nelle motivazioni le grandi potenzialità del progetto di Tauria Nova il progetto è detto nelle motivazioni è stato premiato perché rappresenta per una realtà piccola la strada di una crescita o addirittura una rinascita attraverso la realizzazione di infrastrutture culturali materiali immateriali e valoriali capace di irradiare i propri effetti virtuosi anche sul territorio circostante la giuria individuato nel progetto presentato dal comune della piana di Gioia Tauro anche in ragione del contesto storico geografico l'occasione per generare un esempio di pedagogia di riscatto culturale civile e sociale il 6 febbraio spiega il presidente Bruni quindi tre giorni prima delle indiscrezioni apparse sulla stampa abbiamo tenuto l'ultima riunione della giuria e abbiamo votato all'unanimità il progetto Tauria Nova la scelta è stata fatta in particolare sulla base dell'impatto sociale della proposta progettuale relativa a un territorio che ha una straordinaria necessità di sostegno dal punto di vista culturale la decisione è stata presa in coerenza con quello che l'UNESCO definisce il valore intrinseco del settore culturale creativo in termini di cosione sociale capacità di generare risorse educative benessere personale e crescita economica a Trapani e non solo però rimangono vive tutte le perplessità esternate ieri in merito a questa decisione sempre se sarà confermata dal ministero Ci spostiamo adesso a Misiliscemi dove l'amministrazione comunale ha approvato il bilancio previsionale trennale ascoltiamo il sindaco Salvatore Tallarita Sindaco Talarita è così Misiliscemi si dota anche del previsionale Beh complimenti Guarda noi siamo soddisfatti perché siamo riusciti a determinare il previsionale 2325 che è quello strumento che non appena passa in consiglio comunale ci consentirà di poter agire in maniera più determinata e in maniera più attiva sul nostro territorio quindi l'abbiamo cercato con forza insomma stiamo lavorando affinché tutto si vada verso la normalità Ma che avete fatto? Mettete l'olio nei meccanismi degli ingranaggi? Come funziona? No, non è che mettiamo l'impegno e cerchiamo di conoscere il nostro territorio e dargli una strategia di sviluppo fare in modo che tutto si confronti con i bilanci e quindi che possa essere un elemento definitivo Anche a Trapani addio alle buche delle lettere, le iconiche cassette rosse saranno ridimensionate sostituite da strumenti di ultima generazione Prima l'addio alle cabine telefoniche, ora l'addio a un altro pezzo di storia cancellata dai tempi che cambiano E così anche le buche delle lettere vanno in pensione per fare spazio a strumenti più innovativi Poco importa se ancora una volta i più nostalgici storceranno il naso Alla logica di innovazione e cambiamento spesso drastici e radicali non si sottrae nemmeno Trapani che come tutte le altre città italiane dovrà ridurre il numero delle iconiche cassette rosse che per anni hanno ornato piazze e strade Oggi sono in pochi a spedire lettere e cartoline e le buche pertanto non servono più Bye bye, colpa dei selfie che si possono inviare in tempo reale colpa delle mail e di chissà quante altre diavolerie ancora Una scelta che non riguarda soltanto il capoluogo ma tutte le città italiane che dovranno dire addio alle care e vecchie buche A stabilirlo è stata l'autorità garante delle comunicazioni che nel giro di 24 mesi si è previsto di tagliarne del 38% portandole dalle attuali 46.500 ad appena 29.000 L'Agicom ha da poco varato nuovi criteri di distribuzione delle cassette di impostazione nell'ambito del servizio universale affidato a poste italiane ed è proprio qui che è stata stabilita l'attuazione di una riduzione progressiva da meglio definire in itinere nei suoi vari step con cui nel corso dei prossimi due anni verrà portata a termine la sforbiciata L'evoluzione del mercato ha portato negli ultimi anni a una drastica riduzione dei volumi postali accettati attraverso questo strumento che oggi veicola solo il 3% del traffico postale totale ha spiegato l'autority recependo la proposta avanzata dalle stesse poste Le caselle restanti saranno mantenute o redistribuite sulla base di un sistema a cerchi sempre più larghi se ne potrà sistemare una entro un chilometro per l'85% della popolazione entro un chilometro e mezzo per il 92% della popolazione ed entro tre chilometri per il 98% della popolazione Per tutelare piccoli centri ed aree rurali viene però riconfermato un criterio in vigore fin dal 2008 che impone di avere almeno una cassetta nei comuni fino a mille abitanti Non solo il taglio ma anche la sostituzione Al posto delle buche tradizionali verranno infatti introdotti strumenti di ultima generazione denominati smart letterbox pensati per accelerare il processo di modernizzazione ed efficientamento della rete Già presenti in città come Torino e Milano sono cassette anch'esse rosse ma dotate di un display elettronico sul davanti che fornisce informazioni di pubblico utilità e permette agli addetti di scaricare il contenuto sotto forma di file virtuale E intanto i sindaci delle città finaliste per il titolo capitale del libro 2024 hanno inviato oggi un comunicato ufficiale al ministro della cultura Gennaro San Giuliano richiedendo un urgente incontro per approfondire gli eventi e discutere la possibile sospensione in autotutela della procedura di selezione e proclamazione di Tauria Nova come capitale del libro 2024 La richiesta è motivata dalla necessità di garantire la riservatezza degli atti istruttori inclusi i verbali della commissione di valutazione fino alla pubblicazione ufficiale del decreto ministeriale e della delibera del Consiglio dei Ministri L'obiettivo è preservare la trasparenza, l'imparzialità e l'integrità del concorso nel rispetto delle normative previste dalla legge del 13 febbraio 2020 numero 15 e dal decreto ministeriale numero 398 del 10 agosto 2020 questa è l'ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguito adesso la linea Vallo Sport, buonasera da tutti voi